Ieri si è concluso il referendum telematico in cui si è chiesto ai venti se vogliono diventare una Repubblica indipendente. Grandi numeri e ovviamente una grandissima propensione per il sì. Numeri sui quali peraltro oggi le testate cominciano a sollevare qualche dubbio. Prendiamoli comunque per veri fino a prova contraria. Credo che sia un referendum però soltanto morale, che non possa avere un valore giuridico come invece sostengono i promotori che ieri in Piazza dei Signori hanno proclamato l'indipendenza del vento. Ma c'è qualcuno di voi che quest'oggi se ha un negozio o un esercizio non farà lo scontrino? O c'è qualcuno di voi che se si vedrà sollevata di fronte la paletta della polostrada non si fermerà perché queste sono regole che non appartengono più allo Stato vento? C'è qualcuno che chiederà ai militari italiani di lasciare le caserme abbandonando le armi e i carri armati? Avete presente come erano le piazze del Cairo e di Kiev dopo le dichiarazioni di quei popoli? Beh io credo che oggi in Piazza dei Signori non ci sia più nessuno. Che cosa accadrà? Però davvero è tutto da scoprire. è tutto da scoprire. Grazie.